Ok, mi avete chiesto come si installa e come si usa il Focus F3O con QS quindi praticamente la prima cosa è cercare Focus con 3O su internet e dovrebbe comparire come prima opzione il sito da cui si può scaricare che è github.com, qui abbiamo tutta la documentazione di questo interessante programma e soprattutto se avete Linux o Windows in realtà su Windows è la versione più semplice basta fare click here to download e click here to download scarica praticamente un file di quasi 2 GB quindi adesso vi farò vedere che una volta scaricato il file che tra l'altro è un 7-zip quindi scaricato 2064 7-zip quindi dovete aver installato 7-zip a questo punto a 7-zip gli dice 7-zip estrai file e nel 7-zip gli dite di estrarlo in di due punti vi ho detto Focus chiamiamolo Focus con solo O di Focus e quindi con molta pazienza perché ci sono tantissimi file lui comunque comincia a fare l'esplosione di questi file come vedrete non sono tutti cioè questi 2 GB non sono tutto il peso che fa sul nostro computer sarà un pochino di più adesso interrompo perché ci impiega un attimino ok quindi abbiamo scaricato ci ha impiegato circa 5 minuti sotto di Focus ha scaricato un'altra cartella si chiama Focus con 3 O quindi noi andiamo dove abbiamo fatto il 7-zip andiamo dentro e andiamo a vedere che ci sono dei but ci sono run.but, runanime e runrealistic ora a me piace il realistic cioè le fotografie in pratica e quindi lancio questo se no si possono usare anche gli altri due però la cosa più importante è runrealistic almeno per me poi comunque si possono cambiare i modelli e eventualmente cercherò poi di farvi vedere ma sostanzialmente basta fare doppio clic qua sopra comparo una finestrella come vedete e qui comincio a fare un download di un modello che sono 7 GB e quindi visto che ci impiega parecchio tempo cioè 4-5 minuti anche qua sospendo anche qua la registrazione perché ci impiega un po' dopo di questo scaricherà in qualche modo qualche altra cosa ma sono minuti rispetto a questi 7 GB ecco vedete che ha scaricato il modello Safe Tensor che si chiama Realistic Stock Photo che è un modello credo che venga in questo momento lo scarica da Civitai però sostanzialmente e lo mette tra l'altro sotto models quindi se voi avete i vostri modelli potete scaricarvi anche loro qui e in teoria dovrebbe poi vederveli in più si è scaricato anche un LoRa e il LoRa sono delle cose particolari che permettono di avere praticamente un aggiustamento un aggiustamento al modello SDXL che è già tarato per la fotografia ma il LoRa fotografico questo qui praticamente migliora ulteriormente l'aspetto fotografico in più vedete che si fa praticamente un po' di mestieri praticamente il tutto ci impiega 5-10 minuti insomma per farlo notare che sta scaricando tutte le cose quindi SDXL GPT-2 perché reinterpretà il prompt abbiamo detto una delle cose più interessanti che reinterpretà il prompt ma soprattutto apre un un sito web praticamente molto semplice all'indirizzo 68 600 alla porta sulla porta 78-65 del vostro computer quello che voi vedete è questo questa cosa dove sostanzialmente è molto semplice rispetto a EasyDiffusion questa versione è molto più semplice perché c'è praticamente il posto dove c'è l'immagine c'è il prompt e poi ci sono due tastini che vedremo più tardi comunque l'immagine a cosa ci serve l'immagine a poter cioè l'immagine il prompt nel prompt possiamo scrivere per esempio Mona Lisa as 75 year old lady quindi gli diciamo di fare una Mona Lisa come se avesse 75 anni quindi facciamo generate e facendo generate vedete che lui ci dice praticamente quello che fa che prepara due prompts perché fa due immagini in realtà per vedere cosa fa conviene andare sulla finestrella e controllare lì cosa succede vedete che sta muovendo sulla GPU quindi si aggancia alla GPU ecco adesso sta facendo la nostra Mona Lisa la Mona Lisa che sta facendo la sta facendo con SDXL in pratica e ci impiega circa due o tre minuti quindi vedete che la sta già manovrando adesso non so se ce la fa a fare lo 75N perché non ha detto che il prompt di SDXL lo realizza compiutamente però però insomma dovrebbe interiaprovarci se no si lavora sul prompt e si per ottenere quello che si vuole che si desidera quindi in questo caso vedete che è abbastanza lento perché è lento perché praticamente deve fare tutto ciò che fa il modello SDXL quindi deve iterare 30 volte nella versione che vedremo fra poco poi che è veloce si riesce a farlo girare non per 30 volte ma basta non mi sembra 8 iterazioni o anche meno forse in modo tale ad ottenere il risultato voluto ora sospendo la registrazione per non rubare spazio al video e la riprendo quando è finito ok è fatto tutto vedete che per la prima iterazione ci ha impiegato quasi 3 minuti la seconda è stata un pochino più rapida un minuto e mezzo quasi sono comunque tempi abbastanza lunghi insomma cioè non soprattutto per chi vuole un po' fare delle prove sui prompt allora chiaramente non ha capito 75 anni quindi voglio cambiare il prompt però magari lo facciamo cambiare usando la modalità advanced quindi iniziamo la modalità advanced e vedete che c'è la possibilità di di fare ottimizzare per la quality che lo rallenta ulteriormente oppure per extreme speed facciamo questo e poi gli diciamo visto che diventa abbastanza rapido di generare 4 immagini lui usa un negative prompt già suo eventualmente si può mettere un negative prompt e qua si può ancora controllare altre cose per esempio lasciamo il default per il momento e si può anche controllare quali sono i modelli quindi non l'ho ancora fatto ma credo che lui possa andare sotto la cartella dei models e se vuoi ne scaricate altri vi permette di selezionare un modello diverso così come nella cartella l'ora potete mettere altri l'ora presi da Civitai e qui ad esempio c'è l'ora 1 che sarebbe il film fotografic a peso 025 e quindi in questo momento stiamo usando il base model più il l'ora che fa così e poi ci sono altre cose che tra l'altro non funzionano però diciamo c'è lo stile allora io le prove che ho fatto oggi mi sembra che avevo messo ancora qualcosa di cinema quindi ho messo cinematic se volendo possiamo mettere anche sharp per farlo più interessante andiamo a vederlo in fondo poi non ho detto che venga bene quindi vedete che finisce qua allora a questo punto possiamo provare dei prompt con la modalità che mi hanno detto extreme speed adesso mi hanno chiesto 4 abbiamo visto che monalisa 75 euros old lady non ma monalisa in pratica perché ci rovina tutto perché è un prompt che è una parola chiave troppo forte monalisa però possiamo dire diciamo una cosa tipo an old lady posing as as monalisa lisa e possiamo anche monalisa e possiamo anche mettere uno stile per il mania e quindi facciamo il nuovo generate 4 immagini gli aspect ratio sono interessanti perché possiamo avere delle modalità leggermente diverse facciamo generate ora vedete che la prima cosa che fa è che si downloada qualcosa da internet sono 376 megabyte che sarebbe il modello lcm quello che gli consente di andare veloce però la prima volta che glielo chiedete deve scaricarlo da internet e quindi impiega un pochino di più però poi una volta che l'ha scaricato senz'altro userà e farà la versione più veloce diciamo infatti comincia ecco adesso inizia quindi come vedete sono 4 immagini e le immagini dovremmo vederlo adesso preparation time è piegato 40 secondi per prepararsi adesso dovrebbe partire adesso qui ce lo dice moving mode su cpu le prossime volte non deve si deve muoverlo ma fa molto più in fretta e vedete che fa soltanto 8 step quindi quello che succede è che lui fa direttamente l'immagine molto più velocemente di prima quindi se prima ce l'aveva piegato un minuto due minuti per fare l'immagine adesso vedete che ce l'aveva piegato in questo caso 13 secondi ma nelle mie prove ce l'aveva piegato molto di meno cioè circa 10 secondi quindi se noi vogliamo vedere che cosa sta andando fuori possiamo intanto che lui lavora possiamo prendere un'immagine vedete possiamo scaricarla possiamo cancellarla ma a mano che lo fa ci fa vedere delle vecchie signore come vedete più meno come ho fatto io oggi e quindi potete scaricare tutta questa immagine semplicemente facendo doppio clic e spinne l'immagine poi si fa copia immagine e potete metterla su facebook a ogni iterazione vedete che si aggiusta il tiro e quindi ci esce una sorta di monnalisa diversa adesso lasciamo finire tutta l'iterazione allora è veloce a fare una singola immagine ma gli abbiamo chiesto 4 e quindi dobbiamo aspettare un attimino ecco l'ha fatta poi ci fa vedere le 4 immagini un po' alla maniera di migiorni infatti una delle cose che dice è un po' come migiorni quella che ci piace di più di queste immagini per esempio prendiamo questa la clicchiamo e poi praticamente cosa succede che possiamo andare in input image per fare il scaling perché questa immagine avete visto che è una risoluzione che è carina ma non è incredibile come siamo abituati adesso quindi come funziona si prende praticamente si clicca input image e poi si fa drop image here or click turn drag above image to here quindi cosa vuol dire prendiamo l'immagine che ci interessa la trasciniamo questa e poi possiamo fare delle variazioni dell'immagine la variazione dell'immagine funziona sempre col prompt o oppure degli upscale gli upscale funzionano sempre col prompt quindi in realtà qualcosa cambia nell'immagine quindi se noi facciamo upscale fast 2x otteniamo una generazione ingradita vedete che 896x1152 se facciamo l'upscale fast 2x sarà più grande non nella zona facciamo generate e abbiamo praticamente lo vediamo dal nostro dal nostro sempre console vediamo che sta facendo l'upscaling quindi l'upscaling probabilmente il primo scaling ci impiega un pochino di più comunque ci dice un pochino cosa sta facendo ma io preferisco vedere qua ok ecco ha fatto l'upscaling quindi questa immagine che a noi sembra identica all'altra in realtà se vedete adesso diventa difficile vederlo ma probabilmente è leggermente diversa dall'immagine iniziale perché ci ha lavorato ma soprattutto ha la risoluzione amplificata quindi praticamente siamo stati in grado ecco tra l'altro ci fa vedere vedete che è amplificata perché l'amplifichiamo e vedete che si vede perfettamente chiudiamo e quindi questo è sostanzialmente la parte di base che ho fatto io poi se siete curiosi c'è anche la possibilità di fare l'impending o l'outpainting proviamo ad esempio a fare un outpainting 9 per questo video direi che va bene così comunque vedete che l'interfaccia utente è relativamente intuitiva anzi secondo loro è anche più intuitiva di Bigiurni che prevede di andare su Discord prevede di andare sui canali di fare tutto un giro e onestamente in effetti fatta così vengono fuori immagini abbastanza gradevoli ma senza impazzire e se avete una macchina con una scheda grafica relativamente recente ci piega anche abbastanza poco ok allora questo è tutto grazie buonasera